story time evoluzione radio ben trovati amici e amici di story time un carissimo saluto da giallo calosco sempre qui sul radio italia 5 per proporvi nuove storie nuove attività da scoprire e allora in quella che stiamo per approfondire parleremo di fotografia insieme al nostro ospite antonio gnezzu ciao antonio ben trovato allora antonio raccontaci un po come ti sei avvicinato al mondo della fotografia e quando è nata appunto questa passione allora la storia inizia quando avevo tre anni ah benissimo ho avuto la prima macchina fotografica all'epoca pellicola in regalo dai miei un padre fotografo e mamma appassionata di arte musei quindi a tre anni un giro per uffizi a nove per le biennali o altro e mi hanno cresciuto così poche istruzioni diciamo tecniche soprattutto ne ricordo una di mio papà che diceva di non tagliare i piedi non tagliare la testa fondamentale anche perché all'epoca era tutto su pellicola quindi ogni scatto era quello però ci hanno creduto fino a quando aveva appunto tre anni ecco e in questo mi ci hanno cresciuto quindi ho le foto di mio papà dalla parte il rinascimento mi insegnava le regole di composizione che poi da grandetto invece schematizzato oppure approfondito ecco e quindi sono nato così in questo benissimo ecco quindi già da piccolissimo ecco poi il tutto come l'hai portato avanti a livello poi di di formazione le prime esperienze quali sono state allora per anni ho scattato a pellicola fino probabilmente al 2005 sono arrivate le prime digitali che avevano un minimo di resa ragionevole anche in campo diciamo consumer quindi per un'utenza non professionale e ci sono approcciato un po' ho ancora macchine fotografiche a pellicola in particolare una di mio papà con un obiettivo che all'epoca ci voleva un anno per averlo e che ancora uso ecco ma che sei rimasto diciamo un possiamo dire nostalgico insomma del della pellicola del della vecchia fotografia allora più che nostalgico è una questione di dato di fatto nel senso per rendere la sensazione la profondità il calore di una foto a pellicola c'è bisogno di migliaia d'euro di attrezzatura digitale per fare la stessa cosa che con 200 euro di macchina a pellicola si riescono a fare ecco cioè questo uso molto poco la parte dell'elaborazione dell'immagine proprio per la mia formazione e per me la foto è quasi tutta scattata e fatta su nello scatto poi ci sono ovviamente le possibilità di andare a certo si legge toni piuttosto che altro e chiedi però ne diciamo quando lo scatto nello scatto benissimo ecco è una volta parlata di di tecnica ad oggi di cosa ti occupi che tipo di fotografie realizzi allora il mio diciamo è un ramo di elezione direi non saprei ora voglio parlare l'altro usare è il ritratto certo trovo la bellezza delle persone il filo conduttore che apre al al bello in generale e quindi parlare della persona parlare di chi hai davanti raccontarlo cercando gli aspetti belli perché in ognuno ci sono aspetti belli ed è forse una delle cose alle quali siamo meno abituati facendo una semplicistica critica se siamo più portati a vedere i difetti degli altri anziché gli aspetti positivi ecco e mi ricordo che anni fa proprio quando invece iniziai a farne di un hobby una professione trovai una frase dove in questo fotografo che non ricordo purtroppo il nome e diceva appunto che non esistono persone non fotogeniche solo fotografi non bravi all'epoca nell'alto della mia presunzione di chi non sapeva niente dicevo assolutamente no non sono persone non fotogeniche e invece esistono solo fotografi che devono imparare piano davanti ecco questo insomma per esprimere ottimamente il concetto io intanto invito i nostri amici all'ascolto a visitare il sito antonio nero puntocom e antonio nero su instagram invece antonio niedo normalmente facebook e linkedin 342 055 8909 antonio piocciolo antonio il nero punto com ecco questo antonio il nero è un è una cosa è a cosa è dovuto mi ha due il cognome sardo è nero in italiano e quindi era un gioco nato all'inizio e poi è rimasto e c'è volentieri bellissimo quindi raccoglie un po quello che è il tuo cognome collegato ovviamente alla tua origine sarda allora te che hai avuto questa passione sostanzialmente si è stata trasmessa chiaramente dai tuoi genitori a livello poi di professionista di fotografo qual è l'aspetto che più ti appassiona che più ti entusiasma che più ti piace in sostanza allora quello che appunto come dicevo prima è proprio il raccontare le persone e in questo ho notato una cosa le persone lavorano con me le persone con le quali collaboro da anni una pianista e in particolare della universa piuttosto che un insegnante di danza araba di Firenze insomma che mi ricordo e quello che mi fa piacere è che posso dire con vanto con orgoglio mettiamola così è proprio vedere che le persone si sentono aiutate e portate a togliere la parte di tensione di rigidità che potrebbe esserci nel loro ritratto come guidate una volta una regista attrice mi disse una cosa molto bella mi disse tu dovresti essere il mio insegnante di yoga io non ho mai fatto che lei sentiva appunto guidata nello sciogliere le sue rigidità ma era quello che per me era funzionale per avere un'immagine bella di lei certo perché era funzionale ma gli altri lo percepivano come un metterli a loro agio quindi sicuramente una caratteristica che poi colpiva colpiva molto e che sicuramente è importante per il tipo di fotografia che realizzi assolutamente anche perché quello che noi chiamiamo spesso sesto senso quando abbiamo l'impressione che qualcuno ci stia nascondendo qualcosa o avesse spesso sono delle immagini che la nostra mente vede tipo delle piccole rigidità con tratture di una spalla di un braccio non le percepiamo consciamente le registriamo e ci sembra che chi aveva davanti avesse qualcosa ecco nelle mie fotografie cerco di lavorare su questo di rendere la persona il più naturale possibile perché è il suo lato più bello certo quindi metterla in qualche modo nella sua posizione più rilassata anche perché probabilmente poi è anche più più facile insomma andare al compimento del lavoro ecco a proposito invece di non so eventi collaborazioni realizzazione ecco ci puoi dire qualcosa in particolare sul sul presente ma anche sul futuro allora ora in particolare c'è un lavoro al paritengo molto che è del passato perfetto però è una cosa la quale sono molto orgoglioso perché è venuto fuori un lavoro molto corale e è stata una collaborazione con il centro culturale sauro cavallini di fiesole durante il lockdown mi ha affidato una scultura in bronzo un originale in bronzo di sauro cavallini e con questo è una ragazza abbiamo girato per l'italia chiusa del lockdown per raccontare un po quanto questa virus questa situazione avesse scordinato e scombinato le vite di tutti avesse disantropizzato i luoghi e abbiamo provato a rimetterci dentro bellezza e arte per rimetterci l'uomo quello che è il senso ultimo poi del mercato questo distingue dagli animali e poi questo è un viaggio un racconto dove appunto si riparte da bergamo alta dei problemi più grosse fino a napoli e invece la riapertura in san gregorio armeno con i musei con i presepi si riapre lì e si ritorna alla vita e questa mascherina che viene tolta un senso di liberazione poi ovviamente del gesto per chi ne avesse piacere su youtube antonio niedu quindi anche su youtube è lo stesso contatto che poi avevamo trovato appunto con nome e cognome semplicemente come facebook e linkedin sostanzialmente ecco quindi si può ritrovare lì abbiamo raccolto le foto in un video con le musiche di davide fiello che è un compositore ed è venuto fuori una sorta appunto di racconto per immagini sono delle foto ma poi alla fine è venuto appunto un racconto video come se fosse un una sorta di documentario benissimo benissimo e quindi insomma sicuramente un lavoro che che ti rappresenta molto anche ma sì perché appunto poi è stata l'espressione di una coralità di cose musicista l'arte e teo cavallini che ci ha creduto in questo progetto una sinergia fra più arti che tutti insieme danno la ragazza che ha interpretato questa figura che lei era tutti e nessuno mi chiamo Chiara grazie per questo tocco di vita che ci ha messo dentro era difficilmente qualche stracca prima ecco sì e quindi ne sono orgoglioso perché come se fosse una cosa non mia ma appunto un risultato della corale una corale che fa molto piacere un'opera in concerto appunto fratti e queste altre figure anche appunto con altri modi di fare arte che hanno collaborato tutto insieme allora abbiamo ricordato già appunto quelli che sono i contatti sui social tranne che per antonio il nero che è su instagram antonio nero punto com anche il sito 342 055 8909 antonio pioccio l'antonio nero punto com allora antonio vuoi salutare e ringraziare qualcuno oltre chiaramente a chi ha collaborato sì e mi sarebbe piaciuto ora parlavamo prima la c'è la domanda prima per il futuro accetto mi sono dimenticato dell'aspetto esatto certo andrebbe trovato la maniera di fare una cosa del genere in territori ucraini mi piacerebbe se fosse possibile un giorno fare un lavoro simile in quei territori là che in questa assurdità di assolutamente anacronistica per non dire altro in questo periodo e quindi mi piacerebbe quindi un progetto simile dedicato di portare a tornare a raccontare bellezza in quei luoghi violentati da questo benissimo benissimo questo è un progetto che allora chiaramente ti auguro di poter realizzare ecco invece torniamo all'aspetto dei dei saluti finali insomma allora ringrazio intanto voi per la figura che è stata una grandissima esperienza una bellissima chiacchierata niente il ringraziamento lo farei a questo punto a chi è iniziato tutto questo e miei genitori cioè mio padre che non c'è ma mia madre che è rimasta e questo volentieri allora grazie mille a te per essere stato in nostra compagnia qui a story time e voi amici continuate a seguire le nostre storie sempre e solo sul radio italia 5 un saluto ciao story time evoluzione radio story time Τore aveva so Commons studio timeatrespadio radio story timeatrespadio Grazie a tutti.